Non rubiamo banda alla trasmissione online. Ok, vi dicevo, sulla serie storica caricata si possono aggiungere degli studi, quindi se io voglio aggiungere, quindi faccio dopo il caricamento del grafico, clicco su insert, study, per lui study equivale a indicatori. E di default ne troverete diversi. Quello più... il primo che faccio vedere, giusto per rendere bene e chiare le idee, è MovAVG1 Line, che ricarica una media mobile a un periodo. Se gli dite ok, vi apre una mascherina, Multicharts, che dimostra quali sono gli input. Gli input sono tutti i parametri, le impostazioni che dovete dare al team system o all'indicatore. Ad esempio, l'indicatore vi chiede con quali prezzi volete che io calcoli la media? I prezzi di chiusura, c'è scritto di default. Con quale lunghezza e con quale profondità devo andare a calcolare questa media? Quindi default è caricato a 9. Noi lo lasciamo così, displace è per spostare e far scivolare la media in avanti o indietro, ma ora anche qui non ci complichiamo la vita. Lasciamo 0 e diciamo ok, come vedete è caricata una media. Quindi niente di speciale, ma tutto molto semplice. Poi vi divertirete sicuramente di più con Francesco Placci, che di solito mostra la parte meno noiosa di queste piattaforme, cioè la lettura dei report, vi fa vedere dei sistemi che funzionano. Grazie a tutti.